la valutazione finale assegnata a questo articolo di supe e di 7 voti su un totale di 10 al momento risulta essere il più regalato ecco le caratteristiche che lo contraddistinguono ottimo rapporto qualità prezzo comodo leggero in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto il voto complessivo assegnato a questo articolo di croci e di 7 su 10 risulta avere il miglior rapporto qualità prezzo rappresenta un prodotto tra i più interessanti tra i numerosi di questo settore e resta un'ottima scelta per la maggior parte di utenti che lo hanno già acquistato il prezzo di questo articolo insieme a maggiori informazioni è consultabile attraverso il link che trovi in basso nella descrizione del video il voto finale aggiudicato da questo articolo di mogokoyo e di 7.4 voti su 10 questa è la nostra scelta migliore le caratteristiche principali sono leggero ottimo rapporto qualità prezzo comodo se ti interessa questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video il voto complessivo di questo articolo di pet s pittis è di 7.6 su 10 risulta al momento essere il più desiderato è un articolo realizzato con ottimi materiali e con una qualità generale decisamente sopra la norma in basso nella descrizione del video trovi il link del prodotto con maggiori informazioni e prezzo aggiornato il voto finale assegnato dalla nostra redazione a questo prodotto di james and still e di 8.8 su 10 risulta essere il più votato per questa categoria con 2661 valutazioni i punti di forza sono leggero comodo se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video